Buongiorno a tutti, oggi abbiamo inaugurato l'anno, la stagione, primavera, estate, inizio autunno alla pizzeria La Favola a Domaso ed ecco qua la pizza che ho preso oggi, che è una moni, una bella moni con la mia giunta. C'è dentro scamorza e pancetta, più buste e camberetti e patatine e quindi ve la faccio gustare da vicino piano piano così mi viene fame. Poi dopo dovrò scegliere la seconda che non so ancora quale prendere ma intanto vi faccio vedere la libidina di questa pizza che veramente mi esalta, mi consenta, mi esalta veramente, guardate, precisa, perfetta e di grandissima libidina. Detto questo, buon appetito, ciao!